per il settore dei trasporti nella nostra regione, ma anche per la ripresa delle tante attività dopo l'estate e più in generale per l'economia piemontese. Ospite oggi al nostro telegiornale è il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Galina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo visto la situazione in Monte Bianco, Monte Fregius, soprattutto lato trasporti, logistica, ma si sa, tutto questo ha una ricaduta economica. Voi che autunno vi aspettate? Purtroppo è una situazione che si ripropone dopo un anno dalla frana del Fregius, e la nuova chiusura del Monte Bianco. Quindi purtroppo non è una novità, ma si ripropone una situazione di grave crisi che porta a effetti poi sul nostro territorio. Non solo il territorio piemontese, che ha circa 70 miliardi di export e 50 miliardi di import, ma anche su tutto il territorio nazionale. Sono infrastrutture di valenza nazionale. Quindi questo è un problema che bisogna prenderlo come un problema di tutta l'Italia. Ecco, tra l'altro i dati economici non sono proprio entusiasmanti. Il PIL nel 2024 della nostra regione ha un andamento un po' altalenante, perché positivi i primi tre mesi, negativi i secondi tre. Insomma, qual è la situazione? Assolutamente. Adesso non è collegato strettamente a questo, ma la competitività delle nostre aziende è anche condizionata dai costi logistici. Quindi ci aspettiamo che il governo effettivamente affronti questo problema. La prossima settimana probabilmente verrà il Ministro Salvini, quindi porteremo ulteriormente all'attenzione, specialmente anche per il tema ferroviario che è stato richiamato nei servizi. L'economia risente di tanti aspetti, tanti anche magari settoriali che incidono più sul nostro territorio. Conosciamo il problema dell'automotive, di questo grande problema della transizione energetica, che ci si aspettava che dovesse essere una rivoluzione, che potesse essere gestita. Invece si fa evidente che il nostro indotto ha delle difficoltà e anche il mercato non riesce a rispondere adeguatamente alle domande del consumatore. Purtroppo automotive, manifatture in generale in crisi, c'è qualche speranza? Assolutamente, sì. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni, da tempo con una politica industriale anche regionale. Ci sono alcuni settori che siano più attrattivi, come l'aerospazio per esempio, che però la manifattura in genere è molto legata anche al tema del manifatturiero dell'automotive, sicuramente. Il turismo è un elemento che sta andando abbastanza bene, Torino si sta riproponendo sui mercati internazionali, questo è un pezzo di economia comunque che sorregge anche altri pezzi. Insomma, il futuro della nostra regione si basa su tanti aspetti, alcuni stanno soffrendo un po' di più, sugli altri abbiamo più speranza. Dall'altro, insomma, settembre è iniziato, adesso ci sono tanti grandi eventi, da Terra Mare fino alle ATP Finals. Sì, queste sono le buone notizie, abbiamo un bellissimo settembre, si ripropone con grandi eventi che stiamo anche sostenendo con la Camera di Commercio. Inizieremo col Salone dell'Auto la prossima settimana, poi ci sarà il Salone del Gusto, e poi via così fino ad arrivare ad Artissima, alle ATP Finals. Insomma, un autunno da questo punto di vista degli eventi molto importante. Speriamo bene. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. E adesso proseguiamo.